She makes me go Oh 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 Rang ba dang ba dang 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 digi digi Bello a tutti ragazzi sono Darkjove e sono in compagnia del mio amico Just Red Giusto? Ciao a tutti Just Red Red va bene lo stesso dai Goll Ah il kit vero il kit il kit il kit il cazzo kit E niente vabbè spiego io Va bene non ci scelgo il kit questo qua Niente abbiamo scelto di aprire questa nuova serie che è un Red to Commander su Minecraft LOL E niente uscirà un episodio sul mio canale e l'altro episodio sul suo sta per iniziare Ho scelto il kit il kit percere tu Io c'è io sempre uso il Barbarian Ok a posto Ho già visto una cesta come piazza Andiamo a prendere la cesta Tu adesso è il punto di trovarci Oh spada in ferro Bella c'è la spada in ferro Io pure Già l'avevo Eh ma io ce l'ho Cioè vabbè Tu l'hai scelta come kit io c'ho anche l'acqua Eh sì va bene però dove sei tu Eh appunto questo è il problema Io sono ero lo spawn dove sei? Eh anch'io dove sono spawnato sono fermo sono Sei sopra l'albero Cioè No non sono so Eh che senso Cazzo dove sei tu? Ero lo spawn qua Sono andato a prendere la cesta Sto risalendo Eh ma io credo Non mi ricordo più che cosa ho fatto C'ho un lapsus Ma dove sei tu? Dove c'è il lago O sopra le piante qui? Gli alberetti Eh io sono tipo in un laghetto E c'è Aspetta Aspetta Forse quello Hai skin tu? Sì C'ho una skin Da femmina però Che palle Ma dove sei? Boh Io giro un giorno nel laghetto Tanto al massimo mi so difendere C'ho una Un'arma abbastanza forte C'è una tutto pro Che stia parlando da me Scappo Scappa Eh dove sei? Almeno Sì sì Ci siamo Ci siamo E vaffanculo anche a te Non prendo giù Ah muori 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 Sono morto Perfetto Vaffanculo Caccia Iniziamo molto bene Abbiamo cambiato completamente Tipo di server Siamo sui Siamo sui server SPHX Cioè i server italiani Sì Ehm Niente Volevamo aprire questa serie Di Road to Commander Di nuovo Già l'hai detto prima Vabbè Sì Mi piace sempre dirlo E' emozionante No dai Oh cazzo C'ho musica di Minecraft Che mi rimbomba Nelle orecchie No ok Ehm Niente Tanto prendete il kit Prima che poterlo dimentichi Sì Il kit run Mamma mia C'ho le mutande Che mi entrano in curo Come sempre noi usiamo Il nostro Warrior Cazzo è Oh 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 cazzo Sta per iniziare No ma dai Non l'avevo visto Beh può darsi Ok Io non c'ho un cazzo Questo qui Però è bello Ok Io mi vado subito Aspre dove sei? Io sto spaccando il legno Per prendere Per farmi una spada Ma non si spacca Quanto poi Ah eccoti qua sei Sì Due volte l'ho dovuto spaccare Vabbè Lol Mi va a 20 fps Che brutta cosa No ma che brutto Sto legno ci metto due anni Ma sai dove sono almeno? Oh dietro di te Dark Lo so che era dietro di te Se ti venivo dietro di te Andiamo 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 Dove andiamo Dove andiamo Ma cosa andiamo? Non c'ho niente Io c'ho una spada Pure mezza usata Che schifo Eh sì Aiutami a prendere del legno Che mi faccia la spadina Almeno Tu intanto stop Coprimi 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 Va bene Coprimi coprimi Aiuto 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 Dove cazzo sei? Eh che putt Vaffanculo Oh dove sei? Sei morto? Sono morto Vaffanculo Ma che cazzo no? Adesso come minchia faccio io? Ah non lo so io Qua siamo in un altro server Perché quei due Come avete visto Non siamo riusciti a finire Hg Siamo qua su Iglesia's Craft E qua Non so Qua si vuole buttare Buttati Buttati pure tu All'arrabbaggio Dove cazzo sono? Ecco mi vedi? Sono il re Io pro di te Ah ciao Ciao Allora questi sono degli Sky Wars Siamo in diverse isole Dobbiamo andare al festino centrale Tu devi venire da me E dobbiamo buttare giù gli altri Oh capito I danni da caduta non ci sono Va bene Vai Devi prendere la cesta anche Ok Spade Archi Cose Belle Cazzi Mazzi Tutto quello che vuoi Prendi tutto quello che c'è Tutto quello che c'è Com'è che saltano così in alto? Ah è l'admin Lol Ho detto che è quel mona che vola E come vengo dal te? Me lo spieghi? I blocchi Devo distruggere i blocchi che ci sono qua per venire da te? Aspetta ce n'è uno che Ah ma è l'admin Oh 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 Che cazzo è? L'admin L'admin è incazzato Perché mi ha killato? Non è l'admin Non è l'admin Non è l'admin E chi è? È un mona Te lo dico io che è È un frocio No questo video adesso lo metterò su inglese Craft Io Lo segnalerò come hacker credo Eh niente questo è il video di prova che ci sono gli hacker su questa selle Ciao Lol Dai io rifaccia come un'altra Ok Ciao a tutti ragazzi siamo di nuovo noi Eh vai E siamo di nuovo su R Su Road to Commander di Skywars Sì Rc pure di un errore Sì 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 siamo noi quelli che Quelli che vediamo la radio Sì sì Cazzo Oh spada di diamante Che culo Ok allora Facciamoci bello tutto Powa Guarda che sono figo Powa I'm sexy And I don't know Oh che ci fa questo che vola Oh Che cazzo Di nuovo quello che vola Ma dai Oh ma ha rotto un po' le palle Cioè Ma è la seconda volta Perché ti fermi Perché ti fermi Perché ti fermi Sì Oddio Zeb89 Ah no È Zeb505 Vaffanculo Zeb Imitazione di Zeb Muori Lezzo Lezzo Oddio da Dark and Java è tutto Dal nostro amico qua Just Red Saluta Ciao È tutto Alla prossima Alla prossima